Come sapete nell'ultimo anno ho cercato di diversificare molti asset, quindi cercare di avere molte più entrate da diversi asset. Uno di questi è stato proprio creare un'attività di consulenza online. In realtà avevo già iniziato nel 2020 ma in maniera quasi superficiale. Quelli che vedete ora sono alcuni dei bonifici che ho ricevuto sia da parte di privati che da parte di aziende per le mie consulenze online. E posso dire che è stata una delle attività più remunerative dell'ultimo anno e mi ha permesso in qualche modo di sforare il forfettario e di darmi la possibilità di creare un'azienda vera e propria. Infatti l'obiettivo nel 2022 sarà quello di creare un'azienda di consulenza marketing online che mi permetterà poi di scalare questo business e di cercare di crescere sempre di più come imprenditore. Molti di voi hanno sempre visto soltanto la mia facciata da youtuber, chi mi segue su Instagram invece sa di tutto quello che ho costruito al di là del canale YouTube. Ho sempre visto il canale YouTube un po' come un mezzo ma in realtà proprio tutti i social come un mezzo per diventare un imprenditore. I social servono a questo, sono un mezzo comunicativo che ti permettono di crescere come imprenditore, di mettere in mostra le tue competenze e poi di rivenderle a chi ne ha bisogno. Nel video di oggi voglio parlarvi appunto di come creare un'attività online da zero, una sorta di video chiacchiericcio in cui cerco di darvi le basi per avviare questo business online. Parto col dire che c'è bisogno di avere delle competenze, c'è bisogno di avere un qualcosa da poter dare alle persone. Ogni persona ha bisogno di informazioni, viviamo nell'epoca delle informazioni e ci sono persone, devi sapere che ci sono persone disposte a pagare per le tue competenze, per la tua conoscenza. L'unico modo poi per rivendere queste conoscenze e queste competenze in maniera organica è quello di creare un personal brand. Facciamo una premessa, non esiste una nicchia più profittevole di un'altra, esiste chi si sa vendere meglio di qualcun altro. Faccio un po' di esempi. Mettiamo caso che tu sia un esperto di calisthenics, sia un esperto di allenamento a corpo libero. Inizi a documentare il tuo percorso e la tua conoscenza sui social media, su Instagram, su TikTok, su YouTube. Ovviamente poi io ai miei clienti do una strategia per far comunicare tutti questi social. E una volta che hai documentato i tuoi risultati, una volta che hai documentato la tua esperienza, il tuo successo, quello che sei riuscito a costruire fino ad adesso, verrai contattato da persone che hanno bisogno di queste tue informazioni, hanno bisogno di questa tua conoscenza. Viviamo nell'epoca d'oro delle informazioni, ecco perché vediamo tanti guru che creano infoprodotti o vediamo tanti esperti che rivendono le proprie conoscenze, perché tutti hanno bisogno di informazioni, tutti hanno fame di informazioni adesso e non viviamo in un mercato saturo. E questo ci permette sempre di più di poter vincere a livello lavorativo e quindi di posizionarci come esperti nella nostra nicchia di riferimento e quindi guadagnare dei soldi. Ed è quello che negli ultimi due anni mi ha permesso di cambiare vita, di diventare una persona migliore e di migliore anche proprio personale, non solo finanziario, perché in qualche modo sono consapevole di quello che sono riuscito a costruire. Grazie alle informazioni che io ho appreso negli ultimi anni e poi rivenduto ad aziende, professionisti. Il bello è che io sono partito dalla cameretta di Napoli e sono arrivato a fare consulenze ad aziende che mai nella mia testa avrei immaginato. Quindi il mio consiglio principale è quello di capire la tua nicchia di riferimento, capire qual è il tuo target specifico. Esempio, sei un esperto di calisthenics, sei un esperto di allenamento a corpo libero, mostrasi i social. I risultati dei tuoi clienti, mostrasi i social le tue competenze, le tue conoscenze. Non devi aver paura di condividere le tue conoscenze. Mi è capitato di clienti che avessero paura di condividere le proprie conoscenze perché c'è il competitor che gliele ruba, gliele copia. Questa è una paura che in qualche modo devi superare. Se non condividi le tue conoscenze, difficilmente poi le aziende o i privati si fideranno di te. È un passaggio che devi fare assolutamente. Una volta che abbiamo capito qual è la nostra nicchia, esempio il calisthenics, condividiamo sui social le nostre conoscenze. Quello che ho fatto io e che poi faccio fare i miei clienti è scegliere una piattaforma per il macro contenuto. Esempio YouTube. Il macro contenuto è quello grande, quello lungo, quello che ti permette di parlare un po' come quello che sto facendo adesso e di condividere la nostra conoscenza, la nostra competenza. Soprattutto YouTube è un mezzo che ti permette di crescere nel lungo termine. Esempio un video che ho pubblicato tre anni fa ancora oggi mi performa se l'ho posizionato bene con la SEO, col motore di ricerca e bla 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 bla. Una volta che io ho posizionato quel macro contenuto, cosa faccio? Quel macro contenuto lo posso sviscerare in tanti micro contenuti, in piccole pillole. Non è che prendo il video, lo taglio e lo metto su Instagram, no, però con le stesse informazioni che ho condiviso in quel video posso creare un post su Instagram, posso creare un carosello su Instagram e poi quel carosello lo posso ricondividere su LinkedIn, sia in formato scritto, sia in formato PDF. Oppure posso creare delle mini pillole sullo stesso argomento sul mio TikTok o sul mio Instagram in modo tale che io saturo le piattaforme e mi faccio vedere da nuove persone, mi faccio vedere da nuovi potenziali clienti. Una volta che ho attirato pubblico, una volta che il mio personal brand inizia ad attirare pubblico, ovviamente lo dico in maniera sintetica ma c'è un lavoro da fare, per esempio lui è Alessio, un mio cliente, lui è un consulente assicurativo, siamo partiti che lui non aveva presenza online e con un po' di strategia abbiamo saturato sia LinkedIn, sia TikTok, sia Instagram e adesso lui vende online le sue consulenze. Siamo partiti che lui lavorava nel suo paese e adesso vende consulenze online, abbiamo lavorato per due mesi, non di più e subito è riuscito a raccogliere i primi frutti e lui è ancora oggi incredulo dei risultati che ha ottenuto. La cosa semplice che abbiamo fatto è stato scegliere le piattaforme dove lui voleva essere presente, per esempio lui ha rifiutato di fare YouTube perché non aveva le conoscenze adatte del videomaking, non voleva prendere un videomaker eccetera eccetera, quindi abbiamo scelto LinkedIn, TikTok e Instagram e con un po' di strategie siamo riusciti a posizionarlo come esperto assicurativo qual è e grazie ai contenuti, quindi grazie alla creazione di contenuti nella sua nicchia di riferimento è riuscito ad attrarre organicamente clienti che gli pagassero le consulenze. Nel mio caso ho giocato molto a favore avere un personal brand su YouTube e su Instagram che poi ho sviscerato su altre piattaforme come TikTok o LinkedIn, ovviamente bisogna fare un ragionamento lunghissimo su ogni piattaforma e questo mi ha permesso di prendere clienti, io sono partito direttamente con le aziende, ho fatto consulenze alle aziende, ho ottenuto dei risultati importanti per quelle aziende e automaticamente quei risultati io li ho rivenduti ad altre aziende che mi hanno pagato altre consulenze, poi in un secondo momento ho deciso di aprire questa possibilità anche ai privati, per esempio Alessio è uno di questi e mi ha permesso di vendere consulenze anche a persone fisiche, prima accettavo soltanto aziende perché non volevo perdite di tempo, nel senso che il privato richiede molte più attenzioni dell'azienda perché ha molte più difficoltà, è meno strutturato, quindi richiede molto più impegno dell'azienda stessa e l'azienda molto spesso ti paga anche di più del privato, quindi qui ho dovuto un attimo fare un ragionamento su me stesso e la mia scelta è stata quella di volere aiutare le persone, volere aiutare i privati a costruire lo stesso business che io avevo costruito su me stesso, mi riempie molto più d'orgoglio vedere dei privati che poi riescono a raggiungere determinati risultati perché se loro sono felici io sono felice e automaticamente poi dai privati sono passato anche agli influencer, anche a youtuber che magari voi vedete online, li ho aiutati nella loro carriera, nel loro business da youtuber, content creator e influencer e è bello poi vedere queste persone che grazie alle mie conoscenze, le mie competenze sono riuscite a raggiungere dei risultati anche importanti, quindi quello che vi consiglio di fare è crearvi il personal brand sui social media, se mi seguite sulle diverse piattaforme spiego come fare, mettere in mostra i vostri risultati una volta che avete documentato la vostra esperienza, mettete in mostra i vostri risultati, vi create un ecosistema di consulenze con Meetfox, con Stripe per farvi pagare, magari poi faccio una guida dettagliata su come fare queste cose e in un secondo momento vedrete che in maniera organica riceverete delle consulenze. Questo è ovviamente un modo sintetico per spiegarvi come ho creato questo asset nell'ultimo anno e come potreste farlo anche voi, ovviamente potremmo stare qui a parlarne per ore e ore e ore, ma vi dico che è fattibile, è un bel business, vi renderà dei professionisti nella vostra nicchia di riferimento, mi piacerebbe parlarvene sempre di più di questo side business che ho creato negli ultimi due anni e che mi ha permesso poi di crescere sempre di più come imprenditore, come persona, perché poi vedere determinate aziende che si rivolgono a te per le tue conoscenze ti dà un boost proprio di crescita personale non indifferente. Detto questo ragazzi fatemi sapere se vi può interessare sempre di più l'argomento consulenza online e come crearvi il vostro ecosistema di consulenza, magari ne discutiamo in un freebie o un corso gratuito per tutti voi. Detto questo ragazzi noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su YouTube. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Ciao ragazzi!